Musica Musica E buongiorno e ben ritrovati ancora con l'appuntamento con il sindaco di Padova, Massimo Bitonci, al nostro programma qui dagli studi di Caffè TV 24 di Padova, con noi il sindaco appunto Massimo Bitonci, esponente della Lega, primo cittadino della città del Santo, a noi discutere nel nostro periodico confronto sulle problematiche, sull'attualità e sulle nuove idee di prospettive di Padova, ancora per dare delle idee non soltanto al Veneto, alla provincia, ma anche in tutte le città italiane. Sindaco, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, un caro saluto a tutti. Bene, partiamo subito da un bellissimo risultato che ha ottenuto, insomma, a livello anche italiano, un sondaggio della governance pool del Sole 24 Ore, che la vede nei primissimi posti di gradimento come sindaco di una grande città. Quinto posto per Padova, alcuni hanno detto un miracolo. Cosa ne pensi? No, direi molto positivo, anche un po' inaspettato, perché una cosa sono magari i primi sei mesi, un po' che c'è ovviamente un innamoramento e un'aspettativa anche maggiore, ma dopo un anno e mezzo che si arrivi quasi al 60% di consenso, 59,5 e soprattutto 6 punti più dell'elezione che pone al secondo posto in Italia dopo il risultato di Venezia, mi pare che questo sia un risultato molto positivo, anche perché questo è un sondaggio vero e quindi è fatto con i sistemi tradizionali, quindi telefonando le persone e quindi sentendo i padovani. Questo mi riempie, insomma, di fiducia e mi dà ancora maggiore slancio, perché vuol dire che questo che è stato fatto in un anno e mezzo ha un riscontro molto positivo sui padovani, anche se, come tutti sanno, questo anno e mezzo è stato un anno in cui state fatte le scelte importanti, ma molto di impostazione anche sui programmi, cioè le opere pubbliche, a parte la rotatoria, quella della stanga, a parte alcuni lavori come il rifacimento dei tetti della fiera, ma anche altri lavori fatti nel territorio. I lavori pubblici più grossi cominceranno proprio quest'anno, dal restauro delle mura a piazzale Boschetti, proprio oggi è stato depositato il progetto preliminare su Ponte Vigo d'Arzare, quindi stiamo cercando di affrontare i vari problemi di viabilità che ci sono a Padova, i vari nodi, quindi una volta affrontato con un ottimo risultato alla stanga, stiamo passando a Ponte Vigo d'Arzare e vedrete che anche là con un sistema circolatorio che stiamo studiando risolveremo il problema e poi passiamo al Bassanello, perché anche quello è un punto importante, un po' alla volta cerchiamo di risolvere i problemi, anche se devo dire c'è un progetto generale, nel senso abbiamo dato l'incarico e c'è la gara in corso per quello che sarà il nuovo piano del traffico di Padova e dei comuni con termini, quindi stiamo lavorando su alcuni nodi, ma ci sarà anche un progetto generale di viabilità che comprende il finanziamento dell'arco di Giano, anche là la progettazione è molto avanzata e partiranno i lavori quest'anno e altri temi che io direi fondamentali per la città che forse nell'ultimo decennio erano rimasti un po' alla porta. Quindi lei ha già anticipato una domanda che le volevo fare, cioè l'approvazione del bilancio comunale, del bilancio pluriennale, quindi quello che farà, quello che è stato messo in cantiere come opere, come prospettive e anche come tagli, perché alla fine prendere decisioni e governare una città significa anche prendere delle priorità. Anche qui un bilancio approvato in settimana, quindi un bilancio approvato a gennaio è un po' una novità, non lo è per le imprese, ma lo è sicuramente per un comune, di solito i bilanci di previsione dovrebbero essere fatti prima della fine dell'anno, però ovviamente la normativa porta alle amministrazioni comunali, il continuo cambio di normativa e la legge di stabilità che viene fatta entro la fine dell'anno porta i comuni ad approvare i bilanci verso giugno-luglio dell'anno successivo. Noi invece abbiamo voluto anticipare, quindi già approvato il bilancio di previsione del comune, un bilancio di previsione che porta in dote nel triennale quasi 100 milioni di opere pubbliche e queste già parzialmente finanziate, quindi le opere che verranno effettuate e realizzate quest'anno da quelle sportive, da Colbacchini che verrà completamente ristrutturato, quelle che ho appena citato, ma ci sono molte opere anche dei quartieri, perché mi viene in mente una, la tensostruttura di Caminche, tanti anni che la popolazione sta richiedendo, il completamento di tutta una serie di piste ciclabili che magari qualcuno può pensare secondarie, ma sono invece estremamente importanti, asfaltature, marciapiedi, ci sono 4 milioni di euro di asfaltature che partono adesso. Abbiamo voluto anticipare il bilancio, perché? Perché solo una volta approvato il bilancio si può partire con le opere pubbliche. Questo bilancio porta in dote anche un notevole taglio delle tasse, perché c'è la cancellazione della tassazione sulla prima casa, che è una dote in realtà che viene dal governo, però la prima critica che faccio è questa, viene dal governo perché il governo ha tagliato la tassazione sulla prima casa, però a livello poi di copertura e quindi di legge di stabilità il taglio è una cosa, la copertura è inferiore e quindi già capiamo che probabilmente non ci sarà un intero ripiano da parte del governo e anche qui scaricheranno ovviamente la responsabilità sui comuni, ma io già anticipo che il comune di Padova non aumenterà assolutamente le tasse, opererà invece del taglio dei costi se il governo non dovesse ripianare il taglio della prima casa, come sicuramente sarà. Abbiamo tagliato 70.000 euro della tassi di soggiorno, anche questa è la ferma da un po' di tempo, abbiamo tagliato la tassi di soggiorno, ricordo che in un anno e mezzo abbiamo tagliato l'addizionale IRPEF dello 0,1, abbiamo tagliato l'IMU sui capannoni e le attività produttive dello 0,5 e gli imprenditori lo sanno quanto meno hanno pagato, abbiamo tagliato la tasi latari di un 5%, quindi abbiamo cercato ed è un capitolo importante anche di tagliare le tasse, quindi taglio delle tasse, mantenimento dei servizi, gli stessi servizi praticamente che ci sono negli anni precedenti, tagliando alcune, quelli che noi abbiamo creduto e siamo sicuri un po' i rami secchi, ecco poche assunzioni, quindi abbiamo cercato anche quando ci sono i pensionamenti e i prepensionamenti di sostituire con il personale esistente, le uniche assunzioni fatte sono nel campo della sicurezza, quindi nel campo della sicurezza e come Polizia Urbana la SIC abbiamo assunto circa 30, arriveranno 50 agenti della Polizia Urbana in più, perché penso che la sicurezza deve essere sempre al primo posto, ma con un certo contenimento delle spese, quindi un bilancio direi importante, le opere pubbliche che sono la cosa più visibile vedrete nei prossimi mesi che ci saranno altre opere importanti e se ne vedrà subito l'impatto sulla città. Direi un'ottima fotografia della città, quindi taglio alle tasse, non aumento delle tasse e delle imposte, noi ce lo ricorderemo, ci ritroveremo come sempre, perché è una bellissima promessa questa per i cittadini, ricordo anche un taglio della spesa della politica, perché lei a inizio mandato ha anche decurtato una parte degli stipendi degli amministratori, tra virgolette, però molti, soprattutto chi fa il loro vero dell'amministrazione, l'opposizione ha sollevato che lei di fatto è contrario a tutto, che sostanzialmente vorrebbe un po' sminuire il lavoro fatto precedentemente, o meglio demolire, alcuni hanno anche utilizzato questo termine, lei cosa dice rispetto a questo? L'opposizione fa ovviamente il suo lavoro, poi devo dire che in realtà la vera opposizione che c'è a Padova è fatta da un singolo quotidiano che è del gruppo Repubblica, che quindi ha come target questo, quello di attaccare sempre il sindaco di Padova su qualsiasi tema, ma avete visto che i cittadini questo l'hanno capito, nel senso che nonostante gli attacchi quotidiani, molte volte anche personali, la gente invece preferisce un'informazione magari più diretta e immediata come quella televisiva, dove effettivamente sente la voce del sindaco e non è filtrata da magari da una serie di giornalisti che hanno in mano la tessera del PD o che comunque sono influenzati da un gruppo editoriale che dice bisogna stoppare quelli che sono i sondaggi che danno il sindaco di Padova come comunque tra i sindaci più favoriti che ci sono. Questo è lecito a fare l'opposizione e meno lecito quando passa attraverso dei mezzi di comunicazione. Comunque vedo che abbiamo la possibilità di essere presenti in molte tv locali come anche questa e quindi magari sentendo direttamente il sindaco, a me piace anche molto il discorso delle telefonate, degli incontri pubblici, così la gente può interagire direttamente con il sindaco. L'opposizione ovviamente come dicevo fa anche il suo lavoro, è che secondo me molte volte sbagliano i temi perché la critica dovrebbe essere costruttiva, non può essere hai fatto uno chiediamo due, hai fatto il taglio della tasse, ma potevi tagliare tutte le tasse, cioè questo tipo di opposizione strumentale è un'opposizione che non ha senso perché la gente capisce che se tu fai già il taglio delle tasse, quando tu che fai l'opposizione l'avevi aumentato nel decennio precedente è che puoi dire ma hai tagliato uno, dovevi tagliare dieci, hai fatto questo, hai fatto la stanga benissimo, dovevi fare stanga, risolvere il problema ipotifico d'alzere, dovevi bassanello, sistemare tutto, tutto in un anno. La gente capisce che invece c'è un percorso un po' più lungo che viene fatto e penso che la risposta sia già positiva. Grazie, andiamo subito su un tema scottante di questi giorni, la fiera delle parole, tante parole, scusami un po' questa tautologia, dovremmo sapere perché è montata questa critica e finalmente appunto sentiamo la versione del sindaco. Devo dire che mi ha fatto piacere un intervento non richiesto, devo dire, da parte del già assessore Colasio della giunta precedente perché finché lo dice magari il sindaco Bitonci, finché lo dice l'assessore Cavatton, magari lo dice anche Sgarbi è una cosa, ma se lo dice un componente della giunta precedente, che effettivamente la fiera delle parole era diventata una fiera molto politica e legata solamente a un gruppo editoriale e basta, quindi venivano invitati certi autori. Ecco che quando abbiamo deciso di fare una cosa comunale, quindi quando si viene a dire, ne ho parlato anche ieri dei ragazzi che mi hanno fermato, subito dopo le celebrazioni che abbiamo fatto per il giorno della memoria, si sono fermati per chiedermi anche loro qualche delucidazione sulla fiera delle parole. Io ho spiegato a loro benissimo che non c'è nessuna cancellazione, però l'amministrazione vuole fare una manifestazione che è propria, cioè visto che è pagata con i soldi comunali, non vogliamo più che sia decisa da un'unica persona e che vengano invitate alcune persone e non altre. In effetti poi la polemica su questa blacklist che hanno citato i giornali o sui suggerimenti e gli artisti che voleva il sindaco, poi quando si è capito che la blacklist era una lettera dove si diceva magari invece di invitare questo, potresti invitare queste persone e queste altre, ci farebbe piacere avere per esempio un padovano che è bugaro, no? E allora bugaro è stato invitato, tanti altri che c'erano nella lista, nella lista non sono stati invitati. Quando è stato sentire lo stesso scrittore padovano è rimasto un po' anche lui imbarazzato, ma come? L'invito è venuto dal sindaco ed era il primo firmatario della protesta contro il sindaco per la manifestazione. quando le cose vengono spiegate magari cambiano, quindi ci sarà una nuova manifestazione, in sei faremo questa conferenza stampa dove insieme a Vittorio Sgarbi, Vittorio Sgarbi farà il direttore artistico, ma la manifestazione è comunale, del comune. Il magnifico rettore ha dato la disponibilità di un comitato scientifico, quindi per essere tranquilli e selezionare gli autori ci sarà un comitato scientifico dell'università con altri ovviamente artisti, scrittori e letterati che selezioneranno le varie domande, richieste e faranno insieme anche a Vittorio Sgarbi gli inviti. Dopodiché verrà stilata una manifestazione che sarà sempre in ottobre, sempre durerà dieci giorni, ci saranno circa una sessantina di appuntamenti, vedrete che ci sarà molta gente e quando ho spiegato questa cosa al ragazzo mi ha detto beh io vengo perché a me non interessa se si chiama Fiera delle Parole o un altro nome, a me interessa che ci sia la manifestazione a Padova, non che a me interessa e io gli ho anche ripetuto che gli stessi 60 artisti e autori di testi che avevano partecipato alla manifestazione del precedente, saranno invitati? Allora là vedremo la differenza se la scelta è una scelta di campo oppure se è una scelta effettivamente di voler partecipare a una manifestazione letteraria che non deve avere assolutamente colore politico, anche perché se uno guarda nella lista delle, faccio solo un nome, insomma avevamo chiesto che partecipasse Nicoletti che è famosissimo per il suo blog e l'attività radiofonica che fa Melog, ma tutti sanno che è un esponente molto radicato a sinistra, ci sarà Cacciari? Non mi pare che sia un noto leghista, ecco, quindi vedete che l'amministrazione voleva solo delle novità, voleva inserire dei nomi nuovi e invece c'è stato un no, un no fermo da parte dell'organizzatrice, io penso che le cose non devono essere personalizzate, per cui alla fine ci sarà spazio per tutti con una grande direzione perché io penso che Vittorio Sgarbia, di là di qualche, insomma al suo intervento molto di costume, è un tecnico direi molto importante nel panorama artistico e architettonico italiano. Sicuramente una persona preparata e quindi darà lustro, oltre che anche già un'esperienza precedente a Pado, quindi conosce anche bene la città. Ma anche a Milano, anche in altre città, insomma, porterà sicuramente degli autori molto importanti, per esempio una delle idee che lui ha avuto e su cui sta già lavorando, oltre al fatto che il prossimo anno Padova per la prima volta organizzerà una grande mostra del Padovanino e di altri autori del 600 Padovano, Padovano, Veneziano e verrà replicato un po' in tutto il Veneto in contemporanea. È una novità assoluta e la curerà Vittorio Sgarbi. Stiamo lavorando per farla a San Gaetano, quindi per farla in un posto che negli anni è stato poco utilizzato, ma noi vogliamo rilanciare San Gaetano per le grandi mostre e lo faremo assieme a Vittorio Sgarbi e penso che questa sia un'opportunità molto importante. Certo. Tornando un attimo sulla città, un tema, una bandiera che ha sbandierato durante la campagna elettorale è la sicurezza. Il tema di questi giorni è appunto questa proposta che si sta per concretizzare dalla settimana prossima dell'utilizzo di vigilantes a Padova. Ce lo vuole spiegare? Sì, i vigilantes hanno una competenza direi specifica che è dettata dalla legge, infatti su questo abbiamo sentito la prefettura e quindi è nata questa proposta da un tavolo tecnico ovviamente a livello di prefetture e questura. I vigilantes sostituiranno la polizia urbana nel controllo degli edifici, cioè per esempio nella garrita di Palazzo Moroni è sempre presente per ovvi motivi di sicurezza e di controllo almeno due agenti della polizia il giorno e anche la notte. Noi pensiamo che questo durante il giorno sia importante mentre la notte un po' meno importante. Allora io penso che questi agenti debbano fare altri tipi di servizi e quindi di controllo del territorio effettivo mentre che il controllo degli edifici può essere tranquillamente destinato a queste società che fanno un'attività di vigilanza che però è più ristretta rispetto a quella della polizia urbana che invece possono operare nel campo della sicurezza pubblica in tutti i campi. Quindi liberando risorse che faranno invece servizio notturno. Che saranno reintrodotte quindi in una strada. Quindi saranno maggior servizio notturno in giro per i quartieri. Oltre ad aver aperto la sede nuova della Guizza, dopo aver aperto quella dell'Arcella che è in fase adesso di apertura. Quindi saranno 20 agenti anche all'Arcella. Abbiamo già affittato il posto e fra poco inaugureremo anche quella stazione. Quindi stiamo portando gli agenti nel territorio perché quella proposta che è stata fatta in campagna elettorale della polizia urbana di quartiere si sta concretizzando ma non solo a parole, anche con i fatti. Cioè aver riaperto la stazione in via d'Avanzo che era stata abbandonata diciamo così dalla polizia e quindi stata rioccupata dalla polizia urbana e quindi municipale. Aver aperto la Guizza, aver aperto l'Arcella e prossimamente a Mortise come negli altri quartieri penso che sia una scelta importante che va verso quello che era l'obiettivo, cioè portare la polizia urbana nel territorio. Come dati della Questura? A breve il Questore farà una conferenza stampa e darà i dati dell'anno 2015 quindi a consuntivo, dato positivo, c'è una diminuzione del 5% in controtendenza rispetto a tutte le altre città del Veneto e del Nord di un po' tutti quanti i reati. quindi la percezione è ancora alta però i dati non sono la percezione quindi i dati invece sono buoni ma noi continueremo sempre a lavorare in questo campo perché vogliamo la sicurezza assoluta della gente. Benissimo, direi anche un passaggio, alcuni l'hanno definito una battaglia di civiltà. Recentemente la Giunta ha manifestato la volontà anche concretamente di vietare la possibilità ai circhi che utilizzano animali quindi i cosiddetti circhi cercensi però con l'utilizzo di animali di venire a Padova e quindi di far vedere ai cittadini i propri spettacoli. Abbiamo deciso, ci abbiamo pensato per un periodo di tempo abbastanza lungo perché ovviamente non è una decisione che si può prendere a cuor leggero perché comunque anche questi circhi fanno un'attività ovviamente economica che impiega delle persone e ci sono comunque bambini che vanno a vedere insieme con le famiglie però diciamo che è prevalso il senso di responsabilità e di affetto nei confronti degli animali e degli animali che vengono costretti a vivere molte volte in condizioni precarie. Quindi non è vero che non ci saranno più circhi a Padova, non ci saranno più circhi con animali quindi c'è la possibilità come vediamo anche a livello internazionale di circhi dove ci sono ginnasti, dove ci sono giocolieri, dove ci sono cose di questo tipo ma non vengono impiegati animali, ce ne sono, sono molto importanti sono importanti a livello internazionale quindi auspico che ci siano, che vengano però senza animali perché le condizioni in cui vengono tenute molte volte soprattutto le belve feroci o gli elefanti, quindi non parlo magari dei cani però certi tipi di animali sono veramente incredibili. Anche questo è comunque una sfida appunto anche di prospettiva. Perché ho sentito che è stata raccolta molto positivamente da parte della gente devo dire, molti messaggi a favore. Le ultime due domande sindaco, è finito il Natale, il periodo natalizio com'è il consuntivo di questo Natale a Padova? Direi molto buono, penso che ci si ascolta lo sforzo che ha fatto l'amministrazione quest'anno per illuminare e abbellire con tutta una serie di attività collaterali con i banchetti, però un Natale veramente importante che ripeteremo anche il prossimo anno e andremo avanti perché abbiamo visto che c'è stato un importante ritorno per le attività in centro. Cioè non è tanto abbellire la città a fine se stesso per i padovani anche questo è importante perché è un segno contro il degrado ma l'importante è quello di portare i padovani, chi vive nella cintura e anche fuori di Padova a visitare la città perché visitando la città comunque si beve un caffè, si mangia qualcosa, si va a comprare su un negozio si compran i regali di Natale, si va alla pista di ghiaccio cioè tutte attività collaterali che poi portano economia in una città che deve rivivere perché continuiamo a ripeterlo noi siamo non per i centri commerciali al di fuori della città noi siamo per il centro commerciale naturale che esiste già all'interno di Padova quindi venite a visitare Padova che Padova è una città meravigliosa abbiamo alcuni temi ovviamente da risolvere che sono il tema dei parcheggi in cui stiamo lavorando peccato e male quello che è successo a Prandina che poteva essere quello ma io spero che qualcuno cambi idea e che finalmente sposti questo campo che io chiamo abusivo a Padova e quindi venga restituito al Comune un'area che può essere il grande parcheggio della città e poi stiamo lavorando per anche sistemare il tema dei parcheggi in centro storico attorno a Piazza Insurrezione a breve presenteremo un progetto importante eliminando Piazza Insurrezione però portando molti più parcheggi proprio in prossimità della piazza e penso che sia questo un progetto importante per la città Sicuramente chiudiamo con un messaggio anche forte una mostra che state come Comune, come amministrazione predisponendo la cosiddetta mostra, ma è sulla bocca di tutti, dei dinosauri che cos'è? Allora San Gaetano che è stato poco utilizzato negli anni passati che ha un importante costo per l'amministrazione ricordo che costa dai 70 agli 80 mila euro al mese non all'anno, al mese di spese varie San Gaetano è un centro che va assolutamente rilanciato quindi abbiamo chiuso questo accordo importante per portare la prima volta in Europa era stata realizzata parzialmente in Germania ma questa è una mostra invece completa con i dinosauri argentini i più grandi dinosauri che sono stati ritrovati pensate che il dinosauro, quello più grande occuperà completamente anzi dovrà essere spostato a qualche vertebra il lago Rà del San Gaetano chi conosce, si può immaginare quanto grande, quanto alto sia quindi avremo assieme all'università perché ne ho parlato anche con il correttore perché anche l'università, insomma Palazzo Cavalli ha una propria collezione molto importante quindi sarà il doppio biglietto sia là che per andare anche all'università ci sarà un periodo molto importante da ottobre in poi fino a gennaio, febbraio dove avremo i dinosauri argentini io penso che sarà un grande successo quindi sarà una parte didattica e quindi le mattine ci saranno ovviamente le scolaresche che faranno tutta la parte didattica e poi durante il weekend io sono sicuro un grande afflusso da parte anche delle famiglie la linea è quella di fare una grande mostra una grande mostra o come quella che facciamo del 600 Padovano e una mostra scientifica quindi due mostre importanti all'anno una pittorica e una invece dedicata alla scienza e quindi io per poter soddisfare anche le richieste e le esigenze delle famiglie o gli interessi perché vedrete che questa sarà una mostra che porterà a Padova abbiamo calcolato minimo dai 100 ai 200 mila spettatori quindi direi che sarà un successo importante un ottimo volano per la città noi lo speriamo noi lo verificheremo insieme al sindaco al prossimo appuntamento fra circa 20-25 giorni ringraziamo il sindaco di Padova grazie per l'invito e come sempre e come sempre concludiamo la nostra trasmissione caro sindaco con il consueto caffè che oltre ad essere un rito ovviamente padovano e italiano è un augurio per chi ci ascolta e per conoscere le problematiche ma soprattutto le idee nuove e innovative che vengono appunto sviluppate dall'amministrazione di Padova grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti